ciao ragazzi e ciao ragazze nuovo video volevo fare con voi praticamente volevo fare con voi praticamente il spacchettamento del nuovo samsung 20 plus avevo fatto quello dell'iphone 11 e dato che il mio ragazzo ha comprato il nuovo telefono del samsung galaxy volevo praticamente fare questo video io volevo fare anche una recensione però nel prossimo video per cui fatemi sapere se volete che io faccio una recensione di questo samsung lo già lo sta già testando praticamente e e questo video vi faccio vedere solo che colore abbiamo scelto di telefono e in più cosa c'è dentro nella confezione scusate ma il mio ragazzo dato che appena comprato come avete visto dal blog voleva già subito accenderlo e impostare tutto allora alla fine non l'ho fatto detto questo prima iniziare prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video lasciarmi un like e se volete seguitemi su instagram che li sapete se acquisterò un altro telefono se acquisterò altre cose che potrebbero interessarvi e altre cose in pratica detto questo che ho parlato fin troppo vi faccio vedere il cellulare e cosa c'è dentro in questa bellissima scatola vi dico solo che il telefono è di 128 gigabyte e ovviamente è il 4g perché è uscito il 5g ma dato che qui da noi non prende il 5g allora gli faccio inutile che compri il 5g che non serva niente è meglio prendere un telefono come ad esempio il 4g detto questo vi faccio vedere allora questa è la scatola come vi ho fatto vedere e vi faccio vedere dentro che cosa trovate allora dentro trovate il telefono che adesso ve lo farò vedere poi trovati dentro caricatore per ovviamente caricare il telefono così fatto praticamente così e poi dentro qua trovate le cuffie che sono così con questo spinotto e sono fatte così che strane queste cuffiettine e poi ovviamente dentro sempre qua nella custodia trovate dentro le istruzioni che si presentano così allora ci sono le istruzioni che sono queste libretto ovviamente come in tutti i telefoni che vi spiega per cui le istruzioni e praticamente queste sono le cose che trovate dentro quando comprate il telefono e basta perché qua è vuoto adesso vi faccio vedere il telefono comunque queste qui sono le cose che trovate dentro e anche il ricambio delle cuffie che praticamente questo qua ok vi faccio vedere velocemente anche il telefono allora il colore del telefono praticamente è questo questo il colore del telefono che praticamente è un azzurro acqua chiaro adesso fa il riflesso e si vede poco comunque è così qui ci sono le quattro telecamere fatte così con ovviamente il flash come colore molto bello noi abbiamo preso questo perché c'era solo questo colore ed era praticamente finito per cui c'era solo questo colore qua che non è male semmai poi a fine video vi farò vedere meglio nella foto il colore ed è così poi c'è davanti abbiamo l'altra telecamera e il touch dove puoi sbloccare il telefono praticamente è fatto così per cui ovviamente l'ha già sistemato già messo le applicazioni per cui la recensione del telefono quando è stato provato praticamente dopo un mese vi farò la recensione così faccio vedere anche la telecamera eccetera allora i giga 128 e 8 di ram come vedete è veloce qui ovviamente c'è la telecamera dove c'è scatto singolo video poi c'è altro e qua trovate il pro il cibo video pro fuoco live slow motion praticamente le stesse cose in più ha anche il 30 per e questo è il telefono ovviamente adesso vi dico quanto abbiamo pagato questo è lo scontreno l'abbiamo pagato 179 praticamente 800 euro era in promozione per cui era praticamente solo il giorno in cui l'abbiamo comprato era in promozione per cui invece di pagarlo 1029 euro l'abbiamo pagato 800 euro e in più ci hanno regalato il pacchetto office 365 del computer per cui alla fine il prezzo è questo per cui questo è lo scontrino che è talmente lungo fatto così ok allora queste sono dimensioni del video posteriore che praticamente è anche in hd 4k eccetera e c'è anche quello di 8k e basta questo 12 megapizze però comunque vi farò vedere poi come sono le foto eccetera nella recensione perché questo ovviamente non è una recensione comunque vi assicuro che le foto le fa molto molto bene e niente questo era il telefono questo era praticamente l'uniboxing del telefono e vi ho fatto vedere cosa c'è dentro cosa trovate quando comprate il telefono se volete la recensione del telefono come ovviamente perché il telefono non è mio è del mio ragazzo vi faccio vedere tutti i dettagli le fotocamere come si vede eccetera se volete fatemelo sapere sotto nei commenti che farò la recensione a parte dopo un mesetto che lui ha diciamo manettato il telefono in poche parole detto questo noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo ancora di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina se volete lasciatemi un bel like un commentino qua sotto e se volete vi lascio anche il mio instagram sotto in tutti i video in cui io pubblico e anche nelle schermate praticamente dove io pubblico i video per cui trovate il mio instagram detto questo noi ci vediamo al prossimo video fatemi sapere che telefono avete voi e se avete anche voi acquistato questo samsung s20 plus noi ci vediamo al prossimo video ciao